...della provincia, di cui al pagrapo precedente il Presidente dell'Ufficio Elettorale accetta che il candidato, signor Marco Magrini, ha riportato fra tutti i candidati il maggior numero di voti ponderati. Pertanto il Presidente, alle ore 21.15 del giorno 29 gennaio 2023, proclama eletto alla carica di Presidente della provincia di Varese, signor Marco Magrini. Grazie.